ok ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video sono tonygamer17 e ragazzi oggi vi spiego come fare l'effetto 3d su photoshop allora iniziamo con non so a scrivere un nome quindi adesso scrivo il mio nome del canale quindi il nome del canale eccolo qua ops si vede bianco quindi in questo caso io aggiungerei un attimo la traccia quindi in questo caso per quelli che lo sanno fare fatelo quindi metto la traccia ecco mi raccomando iscriviti a questo canale iscriviti anche su twitch quindi seguimi su twitch attiva anche la campanellina su tutti e due i canali e mi raccomando se non avete capito il tutorial commentate ok va bene allora andiamo un attimo sempre sul testo e cerchiamo di evidenziare il nostro nome e la scritta qualsiasi e schiacciamo 3d adesso vi spiego anche come usarlo alla perfezione cioè adesso vi spiego allora innanzitutto qui in basso ci sono tre oggetti che ci serviranno quindi abbiamo la rotazione quindi spostiamo la videocamera 3d quindi in questo caso noi spostiamo la videocamera la videocamera noi la spostiamo per vedere in un'altra angolazione in questo modo ok qui invece possiamo spostare la telecamera muovendola in questo modo e così continuo a spostare visto e qui invece arriva la parte migliore guardate ingrandiamo zoomiamo sul nostro nome con la telecamera incontriamoci adesso sul colore aggiungiamo il verde noi dal 3d possiamo fare di tutto quindi possiamo anche controllare l'ombra quindi la profondità di istruzione guardate ecco in questo modo visto ecco e adesso vedete anche l'ombra anche l'ombra si muove quindi adesso lo faccio così vediamo un attimo la tensione questo effetto non mi piace tanto quindi non lo uso neanche preferisco tenerlo così perfetto la profondità lo sappiamo già conicità è questa ok adesso passiamo direttamente all'ombra e la luce ok io adesso ho messo su questa lampatina quindi se andate su 3d e schiacciate lampatina guardate un po visto le ombre dietro ok ora vediamo un attimo una cosa perfetto vediamo ora ora se andiamo sul carattere noi possiamo anche mettere la linea sotto ecco in questo modo come potete vedere la linea sotto possiamo mettere la linea al centro non so io non la uso mai quindi non mi serve possiamo anche impostare le lettere in questo modo oppure così che è ancora meglio in un altro angolo inclinate così è ancora meglio si è più bello è ok sposto metto qua e lo coloro ok metto il colore verde ok se avete problemi a se avete problemi a colorare il 3d qua possiamo direttamente rifare da capo questa procedura ecco così aspettate ecco in questo modo e adesso vado su livelle lo coloro un attimo si succede sempre questo problema io non riesco a capire ecco lo metto di color verde ok e poi possiamo rifare il 3d quindi sempre colore bianco verde ecco qua adesso funziona va bene avete capito come si fa bene quindi tonic game 17 faccio in questo modo ok alla fine il 3d questo è cioè file lettere in tre dimensione l'ombra dietro un po' di luce e avete fatto vediamo un attimo così ah che bello si la sposto ecco qua che bello perfetto ecco qua visto poi possiamo anche aggiungere altre cose ad esempio con lo stile del livello quindi io imposterei traccia in questo modo però c'è un problema fa la traccia anche all'ombra guarda guardate visto il livello pagliore esterno diciamo così così un po' di rosso giallo un po' di blu può andare un po' di blu poi la traccia mettiamo la blu vediamo un attimo no no a nulla nulla non va bene la traccia va bene anche così nera con le texture con le texture si possiamo si lo metterei tanto per fare un effetto quindi sovrapposizione sfumatura no sono del colore della ok finitura lucida no ok possiamo perfetto bellissimo veramente bellissimo ok mi piace quindi avete capito come si fa? beh è una cosa semplice quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video quindi ciao ciao